Cosa stai a fare? Niente. Ti sono antipatica. Ma perché? Dì, è vero quello che dicono qua a Catania, che a Roma sei pieno di donne e che hai fatto impazzire la moglie di un ministro? Non è vero niente, sono tutte sciocchezza. Lo dicono tutti. Dicono che a Roma le donne ti piangono dietro la porta come tante gatte. E tu non andare a fare nessuno, vieni. Vieni. Il più bel ragazzo di Catania. Grazie.